A partire dal 18 dicembre lo screening di massa previsto nelle Marche in tutti i capoluoghi della regione coinvolgerà anche la popolazione di Urbino. Dopo la conferma della regione anche la città ducale che condivide con Pesaro il titolo di capoluogo di provincia è pronta a partire. Due sono le location individuate dove saranno effettuati fino al 23 dicembre i tamponi antigenici rapidi. Il bocciodromo comunale di via Pablo Neruda con quattro postazioni totali ed il collegio Raffaello in piazza della Repubblica con due. L'obiettivo, dice il primo cittadino Maurizio Gambini, è quello di fare una fotografia della popolazione della nostra città. Le due location hanno un diverso numero di operatori perché mentre al bocciodromo sono operative quattro postazioni, quindi in contemporanea ci sono quattro, otto operatori perché ogni postazione ha due operatori, otto operatori che testano le persone. Qui avremo due postazioni perché probabilmente la popolazione si pensa che sia minore. Vedremo nelle prime giornate quale sarà l'affluenza perché potremmo spostare, se vediamo che la postazione al centro c'è meno affluenza, di spostare una postazione al bocciodromo, quindi aumentare quelle del bocciodromo. Questo vale per tutti i cittadini anche se il centro è stato allestito per le persone che abitano il centro, magari che non si possono muovere con la macchina e quant'altro, per le persone che vivono in Urbino ma che non sono in Urbino, che possono partecipare, pur non essendo residenti ma domiciliati a Urbino, come gli studenti o i docenti, quelli che sono qui nella nostra città. Io dico che bisogna che facciamo attenzione, come hanno fatto finora attenzione in questa gestione della pandemia, perché veramente i cittadini di Urbino sono stati ligi, hanno sempre rispettato le regole, come amministrazione comunale non abbiamo avuto veramente grossi problemi, anzi non abbiamo avuto problemi. Come per la città di Pesaro, compilando il modulo disponibile sul sito dell'area Vasta 1 o del comune di Urbino, ma anche ritirabile presso i punti individuati dal comune, tra cui le farmacie, oppure direttamente sul posto, presso il punto di accettazione gestito dai volontari della protezione civile e dalla Croce Rossa, i cittadini potranno presentarsi in maniera del tutto volontaria dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19, in uno dei luoghi indicati per fare il tampone. Lo screening sarà fatto in pochi minuti, quindi facilissimo da fare. Se doveste trovare la fila, vi prego magari di ripassare in un secondo momento, perché non c'è una prenotazione, quindi le persone vi presenterete lì ai punti di prelievo e quindi se dovesse esserci una fila lunga, magari passate in un altro momento. Continuare anche per il dopo non vuol dire che magari se allo screening siete negativi potete fare qualsiasi cosa, non potete fare nulla diverso di quello che fate oggi, sempre la massima attenzione fino a quando non saremo tutti insieme fuori da questa pandemia.